Abbiamo vissuto a partire da 25 anni fa il crollo dell'Unione Sovietica, questo ha determinato la globalizzazione del nostro sistema e non so, sotto l'entusiasmo della globalizzazione il nostro sistema non ha già visto il suo suicidio, nel senso che il nostro sistema reggeva la sola condizione che il resto del mondo non fosse ai nostri livelli e fino a qui ci eravamo riusciti attraverso il colonialismo territoriale e ancora oggi un po' ci riusciamo attraverso il colonialismo economico. Noi con la globalizzazione abbiamo esportato il mercato, abbiamo cercato di esportare la democrazia, esportare quello che ancora non abbiamo perché la democrazia non so quando c'è mai stato in occidente, perché la democrazia non significa andare a votare, questo è un modo di leggere i capi, la democrazia vuol dire creare le condizioni per cui tutti possano avere un accesso a tutte le possibilità che una società offre, questa è la democrazia, non il voto, il voto in sé è abbastanza inessenziale. La democrazia, i diritti umani, però se la democrazia e i diritti umani confliggano col mercato, allora si dimentica la democrazia, si dimentica i diritti umani e funziona solo il mercato. Se si può rivoltare di fronte a questa situazione, ogni tanto gli chiedo ai giovani perché non fate la rivoluzione, glielo dico provocatoriamente, c'è questa struttura della rassegnazione dei giovani. E anche questa la si capisce benissimo, perché sempre Hegel ci aveva detto che la rivoluzione è possibile alla sola condizione che esista il conflitto tra due volontà. Dice Hegel, che non era marxista perché era un grande conservatore di destra, dice Hegel la volontà del servo contro la volontà del signore. Oggi però, sia il servo che il signore, sia il datore di lavoro che l'operaio, si trovano nella stessa parte. E hanno come controparte il mercato. E che cos'è il mercato? Il mercato non è una volontà. Il mercato sono due assi cartesiane, no? Su una la domanda, sull'altra le offerte, il punto di incrocio è il prezzo. E come fai a prendertela col mercato? Chi è il mercato? Che è la controparte sia del datore di lavoro sia dell'operaio, anche questo è un grosso cambiamento. Il mercato è nessuno. È vero che Omero ci ha insegnato che nessuno è sempre il nome di qualcuno, ma questo qualcuno non si vede. E allora resta quel nessuno con cui prendertela. Chiudiamo con una frase molto importante, profetica di Heidegger. inquietante non è che il mondo si risolva in un unico apparato economico-tecnico. Ma la cosa ancora più inquietante è che non abbiamo un pensiero alternativo al pensiero che sa fare solo di conto. Denken als Rechnen. Un pensiero che sa solo calcolare. E non avendo un pensiero alternativo al pensiero come calcolo, non c'è nessuna possibilità di riscattarci da questa situazione profondamente nichilistica, profondamente antitetica al mondo della vita e non abbiamo nessun'altra possibilità. Perché anche i pensieri che apparentemente non sono calcolanti, come può essere l'arte, la musica, eccetera, in realtà l'arte quando un quadro diventa arte, quando entra nel mercato. Prima non ha valore. Il valore glielo conferisce il mercato, non l'arte. L'arte non è più in grado di conferirsi il valore.